Il mese di ottobre dedica un'attenzione particolare al mondo missionario. Sabato 22 ottobre alle 20.30, alla vigilia della giornata mondiale missionaria, si terrà in cattedrale la veglia di preghiera con la consegna del crocifisso ai missionari. Il mese di ottobre è per eccellenza il mese missionario, che trova il suo culmine la domenica 23 ottobre, che è la giornata missionaria mondiale, e il 22 ottobre alla sera alle 20.30 in cattedrale, in cui viene celebrata la veglia missionaria e viene dato il mandato quest'anno a quattro partenti, due laiche, una suor operaia e un diacono della comunità missionaria di Villa Regia. Ogni venerdì alle 20.30 l'ufficio per le missioni propone il rosario nei monasteri, con un'intenzione particolare di preghiera. Al monastero del Buon Pastore di Brescia, la testimonianza di suor Chiara Pietta ha accompagnato la preghiera per il continente europeo. Per l'ufficio missionario, ottobre è il mese per eccellenza della preghiera, della preghiera rivolta ai nostri missionari e alle missioni. E noi troviamo luogo per pregare all'interno dei monasteri che sono presenti nella nostra diocesi. Ecco perché i venerdì di ottobre saremo dei pellegrini nei vari monasteri presenti nella nostra diocesi per pregare per le missioni e per ogni continente. A partire da questo venerdì in cui si è partiti a pregare per il nostro continente e l'Europa. Perché si è scelto il monasteri? Perché la fondatrice, o meglio non la fondatrice, ma la patrona delle missioni è Santa Teresa di Liesie ed era una suora di clausura. Pare strano pensare che una suora di clausura sia la patrona delle missioni, ma in realtà non è così strano perché la vita contemplativa e la vita di missione in realtà non sono così separate. Santa Teresa infatti diceva che la sorgente di ogni missionarità umana è la missionarità dell'amore di Dio verso l'uomo, verso colui che poi Dio va abbracciando. Grazie a tutti.